Il bomber senza apparenti meriti sportivi è quel personaggio che trovi in ogni provincia, in ogni categoria. È quel personaggio che può trovare al calciato del lunedì, nella discoteca di Milano o nel bar del paese. Il bomber senza apparenti meriti sportivi ha un talento inesistente. Il calcio è uno sport di squadra. Ma in questi momenti sei da solo.